ecco il link al mio canale twitch e alla mia pagina instagram per seguire gli aggiornamenti buongiorno a tutti e benvenuti dopo tanto tempo la crocetta dopo tanto tempo con un incontro di tekken 7 so che ti sei fermato proprio su quella prima che era tanto che noi esatto la grandissima lottatrizia che soltanto lui usa ma questo conta usare i personaggi del dlc dato che poi ne mancano soltanto tre noi utilizzeremo tutti e due fa cum ram oh yeah badaboom è vero che ci stanno i vestidini i vestidini sperando auto quale scegli questo set esatto esattamente quello scelto quale sette utilizzerà il bell'uomo per la sfida delle sfide tra i due super potenze del bu haitai o quel cazzo che è un cotto giustamente delle 6 è sempre lui lo stronzo ma è una volta che scelgo io che primo prego prestazione sta guarda prego 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 che uno si inizia l'ho parte sinistra c'è frutto e messaggio giangola house a osti gusti c'ha una faccia esatto edi lui che proviene dall'antico oriente in medio ed uguale si ritrova bene nella sfida nella giungla allora già giù a e b ok questo sono io forse ti sento con la mia tipica ballata iniziale e io credo che tu l'hai scelto un attimino più bomba quando cazzo di sole e portato è uscito pure la tra l'altro aia e vabbè ci si può amore anche col cristo ball di no col cristo ball di analogico a differenza degli altri tecken o che ti ho male so che ti devi vendicare perso per una roba passata che ora che lo vedo che sto manco dire che tanto aia mamma mia rage drive lui si aspettava la puttana eva si aspettava la rage out mi scusi esatto pennaggio ovviamente dovremmo sempre tenere precisare proprio esatto se la maniera che lui c'ha l'xbox a casa una serie s e ovviamente si allena c'ha solo tecken mortal kombat peggol e basta c'ha acqua mamma mia per un pelo per un pelo di un pelo per un super pedissimo e non mi usciamo la rage drive in su aia si in e lo sai che io sono scarso si è sei scarso si si oh ti emito oh come la docina il demonio ma fatti prendere no perché tu hai voglia di prendermi che ciò vuoi eliminare le mani no bastardo calcio legale no girocchiata bastardo un tu me la fai la mossa dopo al prossimo sconto devo fare una piccola modifica ah perché togli le prese ma no 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 modifica i round si può metterne di più evitiamo di fare trenta incontri dopo dura troppo il video già va come va la situazione qua mamma mia ciao final round non mi usciva eh sbaglio qualche qualche impercettibile errore tastifico oh i due balle eh bastardo mi sono giocato la vittoria col faccio da ah 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 la madonna poni fine alla mia vita tutto qui chiu 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 què il facuram bellissimo chiu 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 què ha preso la vita no stava per prendere la vita di un avversario sconfitto qualche commento sulla sua vittoria no fortuna non è riuscito a fare il raise art ma è stata solo fortuna alla prossima volta al sole te lo tieni a casa tua noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao